Denaro, regali, viaggi, vacanze, assunzioni di personale, partecipazioni a congressi e cene in locali di lusso. Piccoli omaggi per il disturbo, questo il nome dell'operazione, di utilizzare sempre e comunque le protesi ortopediche della multinazionale francese Cherver, definite in più occasioni dagli stessi medici intercettati, di qualità inferiore rispetto alle altre marche. 21 le persone indagate a vario titolo per corruzione e associazione a delinquere, tra queste tre medici lecchesi in ortopedico Brianzolo, Fabio Bestetti, che prestava la sua opera presso una clinica convenzionata nel capoluogo manzoniano. Quest'ultimo è finito in carcere insieme ad altre quattro persone, compreso il promoter della Cherver Italia SRL. Ai domiciliari, invece, l'odontoiatra lecchese Davide Cantù, mentre la dottoressa Olga Fraschini e il medico meratese Michele Bonanomi risultano indagati a piede libero e sono stati sospesi dalla professione. Secondo la procura di Monza, ortopedici e medici di base avrebbero agito per favorire gli utili della multinazionale anche a discapito della salute pubblica, nell'ambito di operazioni chirurgiche riguardanti protesi ortopediche. Un sistema ricostruito dai militari della Guardia di Finanza di Milano, coordinati dal sostituto procuratore Manuela Massens, che secondo gli inquirenti prevedeva un accordo corruttivo tra i responsabili della società e i medici operanti in cliniche convenzionate col sistema sanitario nazionale. I chirurghi, che nelle strutture private hanno libertà di scelta nell'adozione delle protesi, utilizzavano i prodotti della società rappresentata dai due indagati in cambio di somme di denaro e altri benefit. A questo scopo venivano coinvolti i medici di base, il cui compito sarebbe stato quello di identificare i pazienti da sottoporre alle operazioni, che venivano prima visitati dagli specialisti e poi indirizzati alle strutture convenzionate. Avrebbero inoltre goduto di una percentuale del 20% sulle visite eseguite dagli ortopedici suggeriti. Respinge ogni accusa la dottoressa Fraschini, medico con studio Alecco, ho sempre lasciato liberi i pazienti di rivolgersi alle strutture che li tenevano più idonee, spiega.